Professionalità, competenza, qualità delle strutture e del personale. Il Cus Molise è a servizio degli sportivi e di chi vuole tenersi in forma. Settori giovanili, sala cardio e tante attività per il benessere fisico. Praticate sotto lo sguardo attento di tecnici e istruttori qualificati che fanno dell'esperienza il loro punto di forza. Cosa aspetti? Vieni a trovarci e iscriviti al Cus Molise. Con noi sarai sempre al top.